Nel mio mondo perfetto la legge elettorale sarebbe molto diversa da quella fatta da Renzi, però noi abbiamo oggi l'Italico, una legge sulla quale il Parlamento è stato bloccato per mesi e presumibilmente dobbiamo partire da quella. La nostra proposta è lavorare a modifiche minime sulla legge che c'è già, eliminando i capellista bloccati, quindi con l'elezione di tutti i parlamentari con preferenza, eliminando il rischio che ci sia un divario troppo alto tra i voti che prendi e i parlamentari che metti. Quindi da una parte rappresentatività, da una parte governabilità, adeguare quella legge al Senato e vogliamo le primarie normate per legge. Su questo ha ragione Berlusconi, normiamo le primarie per legge. Dopodiché l'importante è che la legge si approvi nel minore tempo possibile.